Davide, ti sei sacrificato e non eri al meglio contro la Serenità, una partita davvero di sacrificio per te, è arrivato questo pareggio, le tue sensazioni? Io personalmente non ero proprio informissima perché ero riduce da tre settimane che non mi allenavo, per via dell'infortunio nella caviglia che mi ero fatto in casa contro l'Aquila, perciò è stata abbastanza dura per me a livello personale, sulla corsa, ho cercato di dare quello che avevo e poi dopo naturalmente non avevo 90 minuti nelle gambe, sono stato costretto ad uscire, però a livello di squadra il risultato direi che è un buon risultato perché abbiamo recuperato una partita difficile contro un'ottima squadra, perché la Serenità è una squadra costruita per vincere e noi l'abbiamo tenuto testa, abbiamo sofferto il giusto e siamo riusciti a pareggiare una partita, renderci un buon punto. Speriamo che tu possa recuperare la miglior condizione anche perché sono in tanti a credere che un centrocampo formato da te, Pestrin e Randall, possa davvero far fare il salto di qualità a questa squadra. Sì, ma alla fine c'è tanta gente che non crede in noi, però stiamo dimostrando piano piano, in silenzio, che qualcosa di buono possiamo fare, possiamo dare e noi ce la stiamo mettendo tutta. Poi è chiaro che siamo in 5-6 per giocare a centrocampo, però credo che siamo più o meno tutti sullo stesso livello, possiamo fare bene tutti. Tu sei uno dei pochissimi reduci della retrocessione della scorsa stagione, stai ritrovando anche il livello personale nuovo entusiasmo, perché questo gruppo con i risultati e anche con le prestazioni sta anche galvanizzando la tifoseria che vi ha applaudito dopo il match con la Serenità. No, certo, sicuramente è una cosa bella, dopo una partita sofferta come quella contro la Salernitana, uscire tra gli applausi, andare sotto la curva, rivedere comunque un po' di entusiasmo e speriamo che non abbia questo limite massimo, che possa sempre aumentare, che noi naturalmente diamo sempre di più, che loro ci diano una mano, come in queste partite, di sofferenza, dove ci hanno continuato a sostenere per tutta la partita ed è una cosa importante perché l'asco di calcio siamo tutti noi, siamo noi squadra, noi società, noi pubblico, perciò bisogna essere tutti coesi. Dai invece un po' fastidio a voi giocatori il fatto che il mister sia sempre in discussione, viene criticato spesso, ci sta nel suo ruolo, però sembra quasi che sia sempre sulla graticola, anche il presidente si è lasciato andare a qualche dichiarazione dopo il match. Eh, quello che ha detto il presidente, io non posso commentare più di tanto perché è il presidente, però è chiaro che noi tutti e viceversa, credo che sia questo ragionamento, abbiamo fiducia nel mister e credo che il mister abbia fiducia in noi, lavoriamo per andare tutti in una certa direzione, poi dopo noi dobbiamo essere bravi a non sentire le critiche eccessive che ci vengono fatte noi giocatori, e lui sicuramente sa il fatto suo perché è una persona navigata, perciò sa come si deve comportare, sa quando tapparsi le orecchie e quando no, perciò penso che i problemi siano limitati qua. Ai nuovi giocatori c'è qualcuno che ti sta stupendo in positivo? Io ti faccio un nome che è quello dell'inglese Randall, ma ci sono anche altri ragazzi che stanno confermandosi ad alti livelli, anzi sorprendendo? Certo, c'è Giacomini che secondo me è un buon giocatore, poi per la categoria penso sia un ottimo acquisto, poi dopo devo dire tutti, io spero di ritrovare anche Capece e credo che si stia ritrovando, perché comunque nonostante tutte le difficoltà che sta incontrando è un ragazzo a posto, che sa il fatto suo e che può darci una mano e ce la sta dando. Per quanto riguarda invece il match del Catanzaro, venerdì sera questo anticipo non è una partita facile, Davide, loro sono imbattuti e in casa comunque fanno bene e subiscono pochissimi gol. Loro sono, anche loro un'ottima squadra, abbiamo Salernitana, Catanzaro, Lecce, ce le abbiamo tutte di fila, partite semplici non ci sono, però noi andiamo avanti con ottimismo, noi sappiamo quello che dobbiamo fare, le indicazioni che ci darà il mister, sappiamo come affrontarli, poi dopo le partite si possono vincere, pareggiare, perdere, noi cercheremo di dare il massimo, di sudare e di fargliela sudare anche a loro. Toccando ferro in trasferta, compresa anche la sfortunata partita di Frosinone, avete sempre fatto bene quest'anno? Allora speriamo di continuare così. E a livello personale c'è qualche soddisfazione che ti vuoi togliere? Stai crescendo, devi ricoprire la condizione, però diciamola tutta, i tifosi ma anche l'ambiente si aspetta molto da te, che potresti essere quel giocatore che fa fare il salto vero di qualità alla squadra? Certo, io mi assumo tutte le mie responsabilità, questo è chiaro, poi so che devo entrare ancora in condizione, ce la stavo facendo, poi dopo l'infortune mi ha costretto a stare fuori e ho perso tre settimane a non allenarmi, perciò ho fatto un passo indietro, poi è chiaro che io voglio essere al massimo per aiutare la squadra, poi dopo me.